Il fattore tubo peritoneale di sterilità femminile rappresenta circa il 25-35% della sterilità femminile. Che cosa abbiamo fatto in una coppia? Abbiamo valutato che la signora ovuli o eventualmente abbiamo corretto il fattore ovulatorio, abbiamo controllato che l'esame del liquido seminale maschile sia possibilmente fertile. Dopo queste indagini di base passiamo alla successiva che è la valutazione della funzionalità della tuba della partner femminile. Controllo che possiamo fare sia con una isterosalpingografia che in mani esperte con una ecosonoisterografia e in caso che una di queste due tecniche strumentali ci diano dei sospetti, teoricamente il passaggio successivo dovrebbe essere una laparoscopia per verificare se l'informazione è corretta per evitare un inutile e prematuro ricorso alle tecniche di fecondazione assistita. Se invece gli esami strumentali o la storia clinica della paziente ci fanno pensare che sia alto il sospetto di un fattore tubo peritoneale di isterità, le linee guida internazionali, mi riferisco alle linee guida della Società della Medicina di Riproduzione Americana del 2006, ti suggeriscono di partire direttamente con la laparoscopia per togliere la presenza di eventuali endometriosi, aderenze periannessiali o patologia tubarica. Faccio un esempio, il riscontro di un idrosalpinge già alla ecografia transvaginale invece che con le altre tecniche. Quando parliamo di un danno del fattore tubarico della donna, noi dobbiamo prendere in considerazione come origine la malattia infiammatoria pelvica, l'endometriosi e tutti i progressi e interventi di attività chirurgica che abbiano comportato l'appertura dell'addome. La malattia infiammatoria pelvica, come sapete, risulta dall'ascesa attraverso il canale cervicale, nell'endometrio, nella mucosa tubarica ed eventualmente nel peritoneo, di germi patogeni che sono presenti a livello del canale cervicale, è la più importante complicanza dalle malattie sessualmente trasmesse con 800.000 nuovi casi per anno negli Stati Uniti e può avere delle importanti sequeli riproduttive perché può essere causa del fattore tubarico di esterilità, è la causa dell'aumentato numero di percentuali di gravidanza extra che si sono verificate negli ultimi decenni, quindi come dato collaterale può essere causa di dolore pelvico cronico legato alla formazione di aderenza a livello della pelvi. Vediamo qua un quadro di Piosalpinge bilaterale determinato da una malattia infiammatoria pelvica ascendente, qui un quadro più sottile, vedete sembra quasi tutto normale, ma quando spostiamo la tuba vediamo comparire del pus che fuoriesce dall'estremità fimbriale della tuba che è in parte conglutinata, se vedete qui non riconoscete più le fimbrie. Questo invece è un quadro di PID cronica, cosiddetta, perché vedete abbiamo delle vescicole piene di liquido citrino che sono il risultato della pregressa malattia infiammatoria pelvica a livello del pelitoneale, vedete come tutta la superficie dell'ovaio è coperta da aderenze e vedete come qui la tuba è dilatata, segno che la paziente ha anche un idrosalpinge. Questa è la sindrome di Fizzio-Curtis, la conoscerete, la forma più lieve, perché vedete c'è un interessamento, sono queste aderenze a corda di violino tra la parete anteriore del fegato e la parete addominale anteriore legate a una pregressa malattia infiammatoria pelvica da clamidia che nel suo circolo all'interno della cavità addominale è finita anche a dare un quadro di periepatite tanto che vi può succedere che una paziente con PID venga erroneamente classificata come una paziente che ha una colecistite proprio per questa sindrome. Un quadro più importante, questo è il quadro peggiore di Fizzio-Curtis che coinvolge entrambi i lobby del fegato. Il danno tubarico post-infettivo lo possiamo raggruppare in tre grandi categorie. L'occlusione tubarica prossimale, le aderenze periannessiali, quindi intorno alla tuba, intorno all'ovaio e l'occlusione tubarica distale. Questa è una vecchia estrosalpingografia, vecchia perché vedete si usava ancora lo speculum non trasparente di plastica ma qui sono affezionato perché ci permette di vedere in una stessa paziente la doppia patologia. Vediamo che a destra la paziente presenta un'occlusione tubarica prossimale mentre a sinistra seguiamo il decorso della tuba, vediamo che la tuba si dilata e non c'è passaggio di mezzo di contrasto a livello della cavità addominale. Questa naturalmente è la cavità uterina che ha la forma di un triangolo rovesciato. Le percentuali di successo della chirurgia come riportate classicamente in letteratura vanno da un 60% per l'anastomosi tubocornuale che è un intervento che però è caduto in disuso si faceva per via mini laparotomica, adesso sono pochissimi a livello mondiale i chirurghi che lo saprebbero fare ancora con buoni risultati, ha un ottimo risultato quando parliamo di chirurgia per disostruzione di tube che sono state chiuse a scopo contraccettivo, un 50% dopo intervento di salpingo-ovarolisi e un 30% dopo intervento di salpingo-neostomia. Analizziamo adesso i vari punti in cui possiamo avere il danno della tuba. L'occlusione tubarica prossimale rappresenta circa il 10-25% di tutta la patologia tubarica nella donna. Il problema è che è una diagnosi che è un'altissima percentuale di falsi positivi. Teoricamente può essere legata a una vera occlusione, cioè da fibrosi post-infiammatoria legata all'infezione ascendente, che rappresenta probabilmente solo il 4-5% di tutte le PTO che noi vediamo, mentre in tutti gli altri casi si tratta di artifatti tecnici, uno spasmo della membranella che è lì all'origine della tuba dall'utero, un meccanismo a valbola determinato da un'iperplasia dell'endometriale che ti va a chiudere l'origine della tuba dall'utero o, come è stato dimostrato, da dei tappi di materiale amorfo legato a una infiammazione cronica. Tra gli artefatti tecnici, cito in particolare, vedi spesso delle istrosalpingografie che ti portano ai pazienti, vedi che tutto il mezzo di contrasto è refluito in vagina. Che cosa vuol dire? Che il mezzo di contrasto non ha raggiunto all'interno della cavità uterina quei 70 mm di mercurio che sono necessari per il mezzo di contrasto di passare dentro la tuba e passare poi in peritoneo. Nel 1992 pubblicamo un lavoro su 665 pazienti che erano venuti alla nostra osservazione per fare una laparoscopia diagnostica per sterilità. Pubblicammo che soltanto il 5% delle pazienti presentavano alla laparoscopia una occlusione tubarica approssimale che confermava l'istrosalpingografia preoperatoria. Ecco, in questo lavoro seguimmo 17 pazienti, su queste 35, che rifiutarono qualsiasi ulteriore trattamento per la loro sterilità e vedemmo che seguendone nel tempo, 3 pazienti, quindi il 18%, ottennero una gravidanza intrauterina, 4 su 5 pazienti cui il ginecologo personale chiese una ripetizione della valutazione della pervietà tubarica con istrosalpingografia presentavano delle tube perbie, per cui nella nostra casistica i risultati di falsi positivi erano del 42%. Questo gruppo cannaedese ha ripreso poi dopo un po' di anni lo stesso concetto e hanno valutato 72 pazienti in cui due istrosalpingografie dicevano che c'era un'occlusione tubarica prossimale bilaterale e hanno fatto in queste pazienti una salpingografia selettiva. Che cosa hanno visto? Che un'occlusione tubarica prossimale bilaterale era confermata soltanto nel 4% delle pazienti, tutte le altre pazienti avevano una pervietà tubarica mono o bilaterale. A distanza di un anno il crude pregnancy rate in questo gruppo era del 31% e facendo le life table analysis gli autori dimostrarono che tutte queste pazienti che erano etichettate come pazienti che avevano un'occlusione tubarica prossimale per cui teoricamente erano stelline potevano raggiungere una gravidanza. Le tecniche che possiamo, qui ad esempio stiamo mandando un mezzo di contrasto di blu di metilene dopo aver incanulato l'ostio tubarico, lo vedete qui a livello istroscopico. La laparoscopia per la valutazione della serietà tubarica è il gold standard naturalmente per l'aderenza per i tubari che per l'occlusione tubarica distale, abbiamo detto che non lo è per l'occlusione tubarica prossimale e certamente non può vedere eventuali aderenze all'interno della tuba determinate dalla malattia infiammatoria pelvica ascendente. Altri falsi positivi possono essere ad esempio i diverticoli tubarici. Che cosa sono i diverticoli tubarici? Sono dei difetti congeniti del mio salpinge per cui vedete qui siamo in corso di laparoscopia, vediamo che la tuba è distesa dalla CO2 che noi abbiamo introdotto nella paziente durante la fase di isteroscopia diagnostica. Vedete il passaggio del blu di metilene, vedete come qui la tuba è sottile tanto che vediamo molto chiaramente per trasfarenza il blu di metilene facendo una salpingoscopia, quindi incanulando la tuba, andando a controllare la tuba dall'interno, vedete che le pliche mucose all'interno della tuba sono normali, semplicemente qui manca il mio salpinge. Insieme al professor Muzzi che è qui presente pubblicammo una serie di pazienti che erano venute alla nostra osservazione per chirurgia tubarica distale in cui dimostrammo che il 12% erano delle pazienti che falsamente erano state diagnosticate con l'occlusione tubarica distale perché in realtà avevano un diverticolo tubarico. Salpingoscopia che era stata proposta dall'American Fertility Society ma che potendo essere applicata non in tutti i centri non era stata inclusa nella valutazione della tuba. Come la facciamo? La possiamo fare con la tecnica classica passando il salpingoscopio attraverso un laparoscopio operatore o come ha pubblicato recentemente il professor Muzzi anche usando un isteroscopio introdotto attraverso un trequarti ancillare come vedete in questo caso. Se andiamo a vedere l'interno della tuba possiamo avere o un grado 1 o un grado 2 che è essenzialmente la mucosa normale che adesso vi presenterò. Il grado 2 quando c'è l'idrosalpinge c'è un distensione all'interno della tuba per cui le pliche mucose sembrano più separate e piatte. Nel grado 3 notiamo delle aderenze focali tra pliche mucose determinate dalla pregressa malattia fermatoria e perivica ascendente. Nel 4 le aderenze sono più estese e compaiono dei tratti in cui la mucosa è completamente scomparsa. Nel grado 5 è completamente scomparsa la mucosa tubarica. Siamo a livello dell'ampolla tubarica vedete alla salpingoscopia vediamo da 3 a 5 pliche maggiori normalmente e intervallate tra queste ci sono le pliche minori 4 mm di altezza 2 mm di altezza. Il cumulo oforo o eventualmente l'embrione passano in questi canali per andare verso la cavità uterina. Un altro quadro normale. Qui vedete compare una aderenza focale che ci dice che questa tuba ha sofferto all'interno a seguito di una malattia pregressa infiammatoria ascendente. Le aderenze qui sono più estese a nido d'ape e qui assistiamo alla completa scomparsa delle pliche mucose. In un lavoro pubblicato su Human Reproduction ormai un po' di anni fa avevamo valutato quelle che erano le percentuali di gravidanza ottenibile con la tecnica laparoscopica in un gruppo di pazienti di età media di 32 anni, andiamo molto velocemente, 30 con sterilità primaria, 21 con sterilità secondaria, 24 salpingo varolisi, 27 salpingo neostomia. Vedete è molto importante in chirurgia della riproduzione essere sicuri che il tempo di follow up è abbastanza sufficiente nel tempo. Un esempio di lisi di aderenze periannessiali, vedete che qui stiamo liberando l'ovaio, un esempio di idrosalpinge, abbiamo iniettato il blu di metilene, vedete che arriva fino a qua, non passa perché naturalmente la tuba è chiusa per idrosalpinge, facciamo una piccola incisione, introduciamo il salpingoscopio, verifichiamo che la mucosa all'interno della tuba sia normale, altrimenti oggi la toglieremo perché è inutile conservare un organo malato, e procediamo ad una salpingo neostomia, vedete secondo la tecnica di Brua, in cui determiniamo la neostomia con delle microcoagulazioni con un bipolare a basso battaggio 10 watt per ottenere l'eversione delle fibri affinché otteniamo un'immagine di una tuba normale. Che cosa dimostrammo in quel lavoro? Che il fattore prognostico più importante per la chirurgia tubarica è lo stato della mucosa tubarica, perché vedete tutte le gravidanze intrauterine che ci sono state, sono state nelle tube con mucosa normale. Se ci sono state delle gravidanze in pazienti con mucosa danneggiata, queste sono state gravidanze che si sono fermate nella tuba. Se facciamo una salpingo o varolisi bilaterale ci possiamo aspettare che la mucosa sia normale nell'80% dei casi, ci possiamo aspettare un 70% di gravidanza. In caso di idrosalpinge vuol dire che il danno è stato molto maggiore, solo una su tre di queste pazienti ha una tuba normale. Se le operi ti aspetti un 60% di gravidanza e qui vedete il life table analysis che ci dicono che dopo salpingo neostomia la maggior parte delle pazienti ottiene una gravidanza a 9 mesi dall'intervento, dopo terapia per idrosalpinge a 13-14 mesi dopo l'intervento. E così anche le linee guida della società della riproduzione americana ti dice che ancora vale la pena operare l'idrosalpinge quando l'idrosalpinge è in forma normale. Arriviamo adesso all'altra importante seconda patologia di danno tuboperitoneale rappresentata dall'endometriosi. Sapete che l'endometriosi coinvolge il 5-10% delle pazienti in età riproduttiva e che presenta una prevalenza nelle pazienti con sterilità che è intorno al 25-45% e questa sapete è la revised ASRM classification sulla base del quale stadiamo l'endometriosi in 4 stadi a secondo di un determinato punteggio. Vediamo qui un'endometriosi recentissima, questo è un impianto recente, endometriosi atipica nella variante di vescicola rossa. L'immagine di endometriosi che tutti sono abituati a vedere, l'endometriosi un po' più vecchiotta che ha sanguinato più volte, quindi immagini di raccolta a polvere da sparo con tutto il bianco che vedete determinato dalla fibrosi perché l'endometriosi è un irritante per il peritoneo quindi determina attivazione dei fibroblasti. E qui vedete un'endometriosi superficiale che coinvolge l'ovaio e questo ti spiega perché molto spesso puoi avere una paziente che ha tutti i dati ormonali, mucocervicali eccetera, che dice che sta ovulando, la gravidanza non viene, ci possiamo immaginare che se il follicolo cresce sotto questa zona libera l'ovocita, l'ovocita non può essere captato dalla tuba e quindi la gravidanza non viene anche se ha tutti i parametri del ciclo ovulatorio. In più sapete questo è il meccanismo che determina poi la formazione delle cisti endometriosiche perché queste ghiandole endometriali penetreranno nel cratere lasciato dal follicolo, il giorno dopo la corticale dell'ovaio si chiude e tutte queste ghiandole endometriali rimarranno intrappolate dentro l'ovaio e a ogni ciclo mestruale sanguineranno fino a che vedrai la cisti endometriosica. Ci sono due studi in letteratura che ci dicono può valer la pena coagulare l'endometriosi peritoneale quindi stadio 1-2, il gruppo canadese che ti dice che è utile coagularla perché aumenti le percentuali di gravidanza, il gruppo italiano che non ha trovato differenze ma una Cochrane della letteratura mettendo insieme i due studi ci dice che se noi coaguliamo l'endometriosi superficiale aumentiamo con un odd ratio di 1.64 le possibilità di gravidanza per quella paziente anche se calcolando poi quante laparoscopie sono necessarie per ottenere quella gravidanza in più hai bisogno di 12 laparoscopie per avere una gravidanza in più. Cisti endometriosiche bilaterali, il grande capitolo del fattore tubo peritoneale di sterilità legato alle endometriosi, sapete che l'expectant management non ha possibilità in caso di cisti endometriosiche se non per le monolaterali dove ti puoi aspettare un 20-25% di possibilità di gravidanza, quando le cisti endometriosiche sono bilaterali le possibilità di gravidanza non è zero come sento dire molto spesso ma diciamo sono molto basse. Questo è lo studio classico di Olive dell'85 ma altri autori ti direbbero che qui ti puoi aspettare fino a un 5% di gravidanze spontanee. Questo è un lavoro fatto insieme a noi stadi Milano già un po' di anni fa in cui dimostravamo che per endometriosi stadio 3 e 4 le possibilità di gravidanza dopo chirurgia laparoscopica in una serie di 97 pazienti era del 55% percentuali che sapete variano nella letteratura ma diciamo che è consolidato che dopo chirurgia laparoscopica per cisti endometriosiche monobilaterali quindi stadio 3 o 4 ti aspetti una possibilità di gravidanza intorno al 40-50%. Quale tecnica usi? Perché adesso poi sono entrate mille discussioni su come togliere le cisti endometriosiche perché ci sono questi due autorevolissimi autori che ti dicono che facendo lo stripping tu in realtà determini un microtrauma all'ovaio quindi aggiungi il trauma della cisti endometriosica, aggiungi il trauma chirurgico per cui diminuisci poi le possibilità di gravidanza della paziente perché gli ha diminuito il patrimonio follicolare. Una Cochrane che prende in considerazione gli studi due unici prospetti randomizzati che ti dicono stripping verso coagulazione ti dicono che vince lo stripping in termini di gravidanza come negli altri criteri ma a noi in questo momento interessa la gravidanza. Per cui la Cochrane conclude che tu devi togliere le cisti endometriosiche per stripping. Lo stripping però potrebbe creare dei problemi all'ovaio l'abbiamo appena detto e perché? Perché ci sono state delle segnalazioni in letteratura che le cisti ovariche operate rispondono poi di meno, le cisti endometriosiche operate rispondono di meno quando vai a fare una stimolazione per Fivet. Altri autori, e queste Canis, non so se le conosciute, scuola di Clermont-Ferrand, quella che ha cominciato la chirurgia laparoscopica in Europa, ti dice no se il chirurgo è bravo non c'è nessuna differenza e poi sono venuti gli studi confermati anche da lavori successivi che la cisti endometriosica di per sé che diminuisce la capacità di quell'ovaio di rispondere alle gonotropine probabilmente per lo stress ossidativo determinato dalla endometriosi a livello dei follicoli. Segnalo soltanto poi il discorso che se le cisti endometriosiche sono bilaterali c'è il rischio effettivamente di determinare una menopausa prematura in queste pazienti per cui abbiamo sempre presente questo dato nel consenso che facciamo firmare le pazienti con cisti endometriosiche bilaterali, però vengono poi tutti gli studi del professor Muzzi su quello che può essere il danno a livello dell'ovaio dopo tecnica di stripping fino all'ultimo lavoro che vede coinvolte quattro grossi centri italiani che sono Sapienza, Campus, Milano e Palermo, quindi cinque echipe esperte confrontate con un gruppo di chirurghi meno esperti la conclusione è che è l'esperienza del chirurgo che è inversamente proporzionale al danno che tu determini sull'ovaio ed è chiaro, vi faccio un esempio, qui vedete una coagulazione veramente puntiforme dei vasellini che sanguinano sull'ovaio dopo che abbiamo tolto la cisti endometriosica ma questo è un microchirurgo che poi è diventato chirurgo laparoscopista e toglie le cisti endometriosiche il chirurgo generale che si mette a fare la cisti endometriosica non userà questo tipo di bipolare userà lo stesso bipolare grande che utilizza per tagliare i rotondi e coagulare i vasi latero cervicali per fare l'isterittomia laparoscopica è chiaro che il danno laterale termico a quelle ovaie è molto importante. Corro alla conclusione, linee guida internazionali, Eschre, ci dicono che devi togliere le cisti endometriosiche superiori ai 4 cm per la tecnica dello stripping non della coagulazione, riconfermate nel 2005, togliere le cisti endometriosiche uguali ai superiori ai 4 cm, soprattutto cominciano a dirti per avere una diagnosi istologica la stessa conclusione Società della medicina della riproduzione americana vi presento l'ultima edizione, è uscita a giugno quindi da pochissimi giorni queste sono le raccomandazioni americane, nelle pazienti in stadio 3 e 4 la terapia chirurgica laparoscopica può essere beneficiale dovrebbe essere fatto mediante la tecnica dello stripping se non viene la gravidanza a passare alla fivet e che cosa diceva? Lo stesso articolo rinchiamava a un articolo comparso sull'ANSET a maggio di quest'anno che sanno bene i chirurghi oncologi, un po' meno bene le altre persone che l'endometriosi di per sé può essere causa di trasformazione maligna a livello dell'ovaio, questa è una raccolta di 13 studi vedete da differenti aree geografiche, caso, controllo che cosa ti dicono? che messi tutti insieme, l'endometriosi di per sé e quindi qui nemmeno la ciste endometriosi che in altri studi dimostrava che la percentuale era più alta ma l'endometriosi di per sé aumenta il rischio di carcinoma cellule chiare carcinoma endometrioide e carcinoma sieroso di basso grado a livello ovarico a settembre avete poi le persone che vi presenteranno la FIVET due parole soltanto per fare un paragone FIVET-chirurgia De Cerni nel 2008 Polichemia aveva suggerito forse la chirurgia della riproduzione è finita perché ormai la fecondazione in vitreti dà un 35% di possibilità di gravidanza per ciclo è veloce rispetto ai termini di ottenimento della gravidanza mentre la chirurgia laparoscopica ritarda il tempo per la comparsa della gravidanza abbiamo visto la life table analysis prima aumenta il rischio di ectopica potrebbe determinare ma contesto un aumento delle aderenze il rischio dell'anestesia generale e il rischio dell'intervento chirurgico in generale quando abbiamo risposto all'editore Muzzi e io abbiamo però riportato che in realtà quell'anno la società della riproduzione americana portava un 27% di percentuali di gravidanza per ciclo cominciato in Europa il 18% in Italia il 13% queste percentuali sono aumentate negli anni successivi di un punto circa e vi voglio solo presentare gli ultimi dati presentati dal Ministro sapete queste sono le percentuali le gravidanze totali che si possono ottenere con la fecondazione in vitro un 25% se ne va per aborto spontaneo o altre cause e vediamo poi la discesa delle possibilità di gravidanza qui dovete togliere un 30% ho appena mostrato di aborti per arrivare alle gravidanze ai bambini in braccio queste sono solo le gravidanze cliniche per cui questi sono i dati pubblicati per il 2009 nella fascia di età delle pazienti e qui vedete le possibilità di gravidanze gemellari o trigemine che sono molto più alte negli Stati Uniti probabilmente perché hanno delle tecniche di stimolazione molto più aggressive il rischio noi diciamo della chirurgia è basso perché quando operiamo una paziente per idrosalpinge o per aderenze peritubariche non è un intervento assolutamente comparabile è un'istrettomia laparoscopica, una miomettomia laparoscopica un trattamento dell'endometriosi profonda vi parleranno che ormai è accertato quali sono i rischi della FIVET un aumento del percentuale di mortalità per il Natale basso peso alla nascita gravidanze pretermine un aumento nei difetti congeniti sono tutti stati confermati dalle più recenti meta-analisi vi ricordo che teoricamente la legge 40 ti dice che dovresti fare la FIVET solo dopo che una laparoscopia ti dice che non ci sono altre possibilità di gravidanza per quella paziente soltanto due dati del nostro centro una serie di pazienti avviate alla chirurgia laparoscopica per sospetta o accertata patologia tubarica o endometriosica vedete abbiamo fatto una divisione delle gravidanze ottenute in base all'età perché anche noi è chiaro questo è legato alla senescenza biologica dell'omocita però abbiamo avuto un 32% di gravidanza a termine suddivide in un 37% di gravidanza a termine nei pazienti sotto i 40 anni solo un 5% devo dire forse perché i numeri erano piccoli nelle pazienti di 40 o più anni la conclusione è che se una paziente nella nostra idea ha un sospetto di sterilità di origine tubarica dovrebbe andare incontro a un intervento che includa un'isteroscopia una laparoscopia diagnostica o operativa con salpingocromoscopia lo stato della mucosa tubarica è il fattore più importante che determina per quella paziente quello che poi è la possibilità di gravidanza la chirurgia ti permette se risolvi la patologia a livello tubarico che quella paziente abbia più gravidanze dopo l'intervento chirurgico le gravidanze sono simili a quelle della popolazione normale le gravidanze premature i cesari e le gravidanze multiple sono le stesse della popolazione normale e teniamo anche conto che alcune coppie proprio non vogliono sentire parlare di fecondazione in vitro la nostra conclusione era che c'è ancora un ruolo nel 2012 per la chirurgia della riproduzione nel trattamento del fattore tubo ovarico di sterilità grazie grazie Grazie.